Wella ragazzi, ciao a tutti la nicchia, bentornati raga qui su Project Zomboid Come sempre ragazzi, prima di cominciare con questo nuovo gameplay Vi vado a ricordare che in descrizione, se può interessarvi Trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati Vi ricordo anche di seguirmi nei miei canali social, ad esempio ragazzi Seguitemi su Twitch, vado in live quasi tutti i giorni tranne il lunedì Dalle ore 21 e poi, se vi va di seguirmi in live, anche su Twitch porto questo gioco E poi ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al canale Ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica Ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale Allora ragazzi, dunque, ho raccolto un po' di cose che stavano in questa centrale dei pompieri Ho raccolto un paio di cosette, le ho caricate nel furgone Ovviamente da qua ce ne andiamo Non voglio farmi una base qui perché è un posto, è parecchio grande Non è mala di la verità, eh Ok, diciamo che qui abbiamo un gran bel garage È possibile lavorare nei mezzi Non lo so, ci devo riflettere di la verità Non lo so, comunque, prendiamo anche questa mega bottiglia d'acqua La carichiamo anche lei nel furgone Perché ovviamente così iniziamo ad avere scorta di acqua O quantomeno abbiamo la brocca, diciamo, per ora Anche se non è piena piena di acqua, ma almeno ce l'abbiamo Poi sto raccogliendo ovviamente i sacchi della spazzatura che sono mega importanti Serviranno più avanti Poi devo fare una precisazione Nello scorso gameplay avevo detto Che se appare l'icona stomacato Si può diventare Cioè, si dovrebbe diventare zombie Se appare quell'icona Ma non mi sono spiegato bene In realtà, l'icona stomacato Può apparire anche in altri casi Cioè, magari mangi del cibo andato a male E a quel punto è chiaro che ti viene fuori stomacato Ma non diventi zombie Però se tu vieni graffiato Oppure una ferita ti dà la lacerazione Quindi magari vieni lacerato da una ferita E poi ti appare stomacato così Senza aver mangiato cibo andato a male Beh, allora in quel caso è piuttosto probabile Che è un sintomo che stiamo per diventare zombie Però Se stomacato salta fuori Perché abbiamo mangiato del cibo andato a male Beh, allora tranquillamente Bisogna solo bere tanta acqua E passerà Però se ci graffiano Oppure lacerano E salta fuori stomacato Senza aver mangiato nulla di strano Beh, a quel punto invece So cavoli Quindi Era giusto Era giusto fare questa precisazione Quindi Quindi Se non vi hanno toccato gli zombie E vi è salta fuori stomacato Non fatevi problemi Non dovrebbe succedere niente Allora dunque Ho praticamente caricato il bagagliaio E qui dentro non ci entra un bel niente Dobbiamo trovare un veicolo migliore di questo Comunque i sacchi della spazzatura Sono importanti per creare Gli accumulatori di acqua piovana Praticamente li troviamo qui Barile per raccolta pioggia Vedete? Ci vogliono quattro sacchi della spazzatura Allora sto quindi mettendo da parte Cioè nel furgone tutto quello che Non devo portarmi dietro Anche il cibo ovviamente Quindi beh sì Devo trovarmi una casa Allora Allora sapete perché non mi piace Questo posto come casa? Perché praticamente Questo Questo portone Lo possono rompere Gli zombie E una volta che lo rompono Non lo posso più riparare Le porte invece Anche se i zombie le rompono Le posso ricreare Ecco qual è il problema Ecco perché non mi piace troppo Farmi la base In questo punto Altrimenti mi tocca Minimo minimo mettere una porta qui Ovviamente Capito? E poi c'è molto da barricare qui E' veramente grande Ecco perché quindi Non mi fa per ora impazzire qui Per ora qui Non mi fa impazzire Allora Comunque sia Il mio personaggio Ha fame Mangiamo un po' di patatine Ora tornando indietro Passiamo dalla stazione di servizio E prendiamo Il cibo che ho lasciato Perché ero senza armi Sono venuto dritto dritto qua Ok Ero senza armi Sono venuto dritto dritto qua Oppure Oppure mi conviene fare un'altra cosa Raga Credo che mi conviene passare Dalla libreria Perché i libri Sono altrettanto importanti Facciamo così Intanto fumiamo Perché il mio personaggio E' agitato E siccome il mio personaggio E' un fumatore Di solito E' agitato Per questo motivo Allora In questa città C'è di tutto Qui c'è la stazione di polizia Sarebbe da esplorare Pure questa E poi c'è la libreria Allora Diciamo così Sono le ore 16 e 30 Forse mi conviene Dormire Nei pompieri Perché Sta per fa' buio Però E' che è pieno di zombie Vorrei anche passare Dalla libreria Che è qua Però vedete Quanti bei zombini Ci sono qui Ecco Ci sono un bel po' Di zombie Dovrei ammazzarli Tutti Per andare Tranquillamente Nella libreria E' la libreria E' qua Book Ok Io ce proverei Allora Abbiamo Abbiamo L'ascia Che è una signora Arma Ce proverei Raga Ho sto personaggio Lento E' lento 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 Questo personaggio E' schifosamente lento Ok Questo personaggio Ha qualche problema E' un pochino lento Abbiamo dei beta bloccanti Riducono il panico E' il problema E' il panico La paura Ok Mi sa che ho attirato Mezzo milione di zombie Ok La paura E' un bel problema In questo gioco La paura E' un gran bel problema Credo che è più complicato Del previsto La paura dai e mori a c'è anche la pistola vero e l'ho dimenticato madonna mia quanto ci vuole e beta bloccanti buono però hanno hanno ridotto la paura del personaggio namo di negativo c'è che a me stanno facendo spostare troppo a piedi ma finì che becco altri zombie ok abbiamo un altro problema abbiamo il problema che ok devo sparare va abbiamo il problema che il mio personaggio comincia ad essere affaticato vedete affaticato ma a fini ma a finire che non che non finisce bene pensavo che pensavo che il mio personaggio ce la faceva ok vabbè usiamo un posti colpi ok caspita ma la so un po sudata ci ha mancato veramente poco ma manca la voce oh ma che è allora book nacket ok comunque devo trovare un cavolo di orologio migliore e non orologio furgone devo trovare un cavolo di furgone migliore perché questo proprio non c'ha capacità di carico ma la questi me li devo affrontare che so vicini al furgone comunque lascia e buona è il mio personaggio che è il mio personaggio che non c'ha forza ma muori porca sozza sto cavolo di personaggio che non c'ha forza cazzozza non c'ha affaticatissimo non c'ha forza e muori orca vaken assonnato mangiamoci un po che coffee magari fa un po effetto positivo anche per la fame ecco mi toglie un po il sonno allora facciamo riposare per terra un attimo il mio personaggio che il problema del mio personaggio è dire che forma fisica non è neanche male cioè forma fisica è livello 7 non è neanche male eppure proprio vabbè ovviamente che volete raga abilità 0 cioè è proprio scarso il problema quello è scarsissimo ancora però man mano che andiamo avanti man mano che lui uccide zombie eh allora lui diventa sempre più abile ad ucciderli con un colpo solo ovviamente quello mi fa risparmiare un mucchio di fatica cioè ha accumulato fatica perché dovevo dare 4 colpi per ammazzarne uno ok allora si va qui dentro mi sa che dormiremo qui mi sa che dormiremo in questa città perché non abbiamo il tempo di tornare indietro allora i libri sono indispensabili perché possiamo migliorare un po in fretta tutte le abilità e non mi sembra affatto una cattiva idea oh chiudi sta cavolo di porta 3 ore che clicco sento zombie in giro allora io direi che appigliamo tutto perché probabilmente mi manca tutto il problema è che però rischio di prendere un mucchio di doppioni cioè ok pronto soccorso volume 3 è che pronto soccorso ragazza sale molto lentamente nel gioco per ora non mi interessa è una di quelle cose una di quelle meccaniche più avanti non è così indispensabile adesso pensarci al problema non ci arriverei cioè per far salire pronto soccorso cavolo ah dovevo far pipì era pieno non lo sapevo mo praticamente c'ho i pantaloni fatti di pipì praticamente mo devo lavare i pantaloni con la canteggina altrimenti il mio personaggio è nervoso perché c'è i pantaloni fatti di pipì va bene no direi che già stiamo a posto l'estintore è molto utile ma per ora è molto pesante ok cos'è il problema? depresso perché appunto c'ho i pantaloni fatti di pipì speriamo che troviamo speriamo che troviamo della canteggina perché mo è quello il problema cioè i pantaloni urinated è che purtroppo dovrei andare in giro con questo coso aperto almeno quando si tratta di fare diciamo i bisogni soliti lo senti senti che se la stava a fare addosso aspetta magari qui dentro la trovo qua dentro è una lavanderia magari qua troviamo della canteggina è una lavanderia meno male che non c'è l'allarme non ci ho pensato spugna maglietta e dai mi sa che il liquido detergente non è la stessa cosa ma lo prendiamo certo che avvenire è qui perché c'è i pantaloni eccola qua la canteggina ok però ce ne andiamo perché siamo mega carichi mega carichi mega depressi mega tutto mega tutto ce ne andiamo ovviamente dall'interno la porta si apre dall'esterno no allora ok c'è uno zombie strisciante non mi interessa più di tanto segniamo che noi siamo passati per di qua alla libreria ok quindi volendo potrei sì ok potrei anche barricare tutto sommato la stazione dei pompieri però come base una base da avere in questa città più che altro più che altro come base da avere in questa città perché alla fine vi ripeto non mi fa impazzire qui non troppo è troppo grande come posto e c'è da barricare di brutto quindi potremmo magari barricarlo giusto per ora però però vorrei farmi una casa fuori città principalmente perché le città sono sempre piene di zombie allora ho visto uno zombie avvicinarsi è quello ma mi ha visto quindi lo devo ammazzare per forza ok c'è una mappa che la prendiamo una mappa che ci sblocca un pezzo di mappa evitiamo di farci vedere da quelli ma quelli tanto si avvicinano lo stesso prima o poi prima o poi verranno vabbè per ora per ora allora ho problemi più grossi allora diciamo che per ora magari rimaniamo qui perché sono mega carico ho troppi libri magari per ora rimaniamo qui che almeno dovrebbe essere sicuro no? mi posso fidare? abbiamo tante stanze devo solo accendere le luci però sono accese no? non tutte le stanze sono accese abbiamo il bagno qua allora facciamo una cosa intanto mi vado a scaricare i libri intanto poi cavolo 18 e 20 ho perso il programma tv quello che ci insegna qualcosa o ancora siamo in tempo ma ne dubito accendi life living forse ormai tardi eh vabbè teniamo acceso la tv peccato sono arrivato con 20 minuti di ritardo allora i libri per ora li mettiamo qui abbiamo 52 kg di capacità mettiamo qui i libri raga tutto ciò che è lettura letteratura tutta roba che ci insegnerà qualcosa le mappe le ho lasciate nell'altra casa no? vabbè non è un problema tanto poi ci torneremo in quella casa se serve per ora mi va bene così allora perché dobbiamo ricordarci che in quella casa la prima dobbiamo ricordarci che lì abbiamo lasciato comunque tante cose importanti anche nella prima eh stazione di polizia purtroppo ho dimenticato di prendere quel secondo zaino nel primo episodio c'erano due zaini uno purtroppo l'ho lasciato prima o poi devo tornare lì a prenderlo perché ovviamente uno zaino è sempre mega utile allora stiamo scaricando i libri alcuni soddoppioni fa niente poi li butto almeno comincio un po' a scaricarmi e quindi per ora magari rimaniamo qui perché almeno qui abbiamo tanto spazio abbiamo molte casse però abbiamo il difetto che qui è difficile proteggere il posto è pieno di finestre questo luogo quindi in caso il giorno successivo proviamo a barricare se vogliamo magari per il momento avere una base con un garage però il problema ve l'ho detto è l'ingresso che se i zombie si mettono di testa a sbattere lo buttano giù e questo è un problema l'unico problema allora vabbè oh per ora allora rimaniamo qui facciamo così per ora il cibo lo scarico qua così perché se no sto andando in giro troppo carico sono troppo troppo carico ed è ovviamente un problema perché poi non posso raccogliere niente allora qui abbiamo un caricatore pieno munizioni ok allora mi serve un posto dove scaricare se no le scarico qua anche qui c'è cibo ah ok scarichiamo qui alcune cose cioè cose che in teoria non vanno in una cucina ma per non averle sparpagliate in posti troppo diversi che poi mi devo mettere in pazzi per cercarle per ora magari alcune cose le metto qua abbiamo i bossoli vuoti quando spariamo recuperiamo i bossoli poi ci possiamo rifare le munizioni ah qui c'è il liquido detergente doppia canteggina non mi serve ok bottiglia d'acqua abbastanza piena questi li tolgo ah consultiamo questa mappa ok abbiamo sbloccato la mappa giù a destra abbiamo sbloccato per ora la mettiamo qui non la devo perdere andiamo a vedere allora vi faccio vedere dove ci troviamo noi noi ci troviamo qui noi siamo partiti da qui dalla stazione di polizia poi sono andato qui poi qui abbiamo preso la macchina ho fatto questa strada e poi questa è la strada lunga 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 che abbiamo fatto con la nebbia poi siamo andati un attimo in questa casa difatti dovrei segnarla e poi siamo andati giù e ci troviamo adesso qua volendo potrei segnarmela che questa è una casa dove stiamo e vabbè poi ah un'altra cosa per cancellare dalla mappa dobbiamo avere nell'inventario la gomma l'ho trovata poco prima di avviare la registrazione allora dobbiamo lavare questi pantaloni ma se no il mio personaggio è sempre nervoso quindi togliamo i pantaloni riponi così ce li ho nell'inventare vabbè non era indispensabile a dire la verità comunque ok pulisci i pantaloni e ci vuole la candeggina ok che erano fatti di pipì a posto ma i pantaloni sono belli puliti però sono bagnati ma non importa allora la candeggina la mettiamo qui non mi va di mischiarla col cibo ovviamente ok allora molto depresso umido e crisi di nervi allora fumiamo e per quanto riguarda il depresso è buono leggersi i libri quelli rossi quelli sono ottimi per recuperare tristezze e tutto però alcuni non li ho presi no ma mi pare che ne ho lasciati un botto ne ho lasciati un botto qui da qualche parte un po' assonnato allora il problema del sonno è che più il personaggio ha sonno più il personaggio combatte male più il personaggio recupera lentamente la fatica cioè ecco più più lentamente il personaggio recupera quando gli manca il fiato insomma va quella mamma e rompe la finestra l'ho sentito che ce n'era un altro quella ma mi rompe la finestra aspetta non me la rompere ok mamma mia quanto è scarso sto personaggio a combattere non c'ha mai forza ok abbiamo dei pantaloni extra e facciamo così va per ora dato che questa è la mia base momentanea e direi che li metto qua tanto da qui li ho presi da qui li vado a me di nuovo a rimettere qui li ho presi qui li rimetto per ora devo scaricare e l'avevo caricato da qui e mo lo riscarico qui molto intelligente nicchè eh vabbè allora libro rosso questo ci fa recuperare molto la depressione c'è pure scritto noia stress tristezza gliene facciamo leggere uno qui come potete notare ho altri libri e roba varia vabbè tanta roba tanta roba secchio manganello niente è rimasto ancora depresso ah no 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 non l'ho fatto leggere tutto credo sono stato troppo di fretta pensavo che era più veloce a leggerlo ci vuole mezza giornata a leggere sto cavolo di libro ok un po' meglio ok allora me lo tengo in macchina questo libro visto che è tutto sommato può tornarmi utile sacco della spazzatura no vabbè lasciamo un po' di cose dentro va tanto mi devo trovare una macchina più buona questa è proprio una schifezza non trasporta niente ok il giorno successivo direi che ci barrichiamo se vogliamo rimanere un po' qui che non è male perché abbiamo un ottimo garage per lavorare sulla macchina il buono è quello che abbiamo un garage chiuso per lavorare sui veicoli non dobbiamo stare all'aperto a lavorare col pericolo che ci attaccano alle spalle gli zombie e il positivo è questo ovviamente ok allora sicuramente la maggior parte di ste cose sono doppioni ma fa niente alcune di queste cose pesano poco allora ok doppioni mo li vado a buttare via tanto li buttiamo nel cestino e doppioni mi manca come collegare il generatore che è uno di quelli indispensabili ancora non l'ho trovato abbiamo ok di questi ne ho addirittura tre perfetto allora c'è il cestino buttiamo nel cestino quello che a noi non serve la tira di birra vuota non mi serve via questi sono tutti doppioni cancella tutto ok perfetto non lo so se alle 8 alle 21 fanno il programma tv poi andiamo a letto quindi più tardi allora questa è tutta roba che mi impara come fare munizioni magari questi me li leggo off camera perché si perde tempo allora vediamo un po' invece la carpenteria meglio leggersi il libro di carpenteria ok prendi il libro carpenteria uno che è importante perché il giorno successivo dobbiamo appunto barricare quindi se siamo pure belli come dire più abili in carpenteria è meglio per noi perché dobbiamo fare molta carpenteria niente ore 21 qua non è successo niente ma è messo nel programma giusto è messo giusto sì ok è arrivato il momento vabbè buono dai questo libro quasi finito allora andiamo in bagno e poi a letto allora che gli faccio mangiare prima di andare a letto che cosa abbiamo di buono un tortino mangiati un tortino alla faccia della dieta vabbè sta perdendo peso in base alle calorie che gli faccio assumere per ora il dice che da 80 passeremo a 79 ok dormiamo qua non gli è bastato il tortino addia verità vabbè vabbè giorno successivo ti faccio mangiare qualcos'altro va ah puntiamo la sveglia wey allora sveglia imposta 5 e 50 riposa dormi voglio è che 5 ore sono poche ok tecnicamente devo andare in bagno vabbè ci andiamo dopo prima ore 6 programma tv non me lo voglio perdere stavolta siediti ok facciamo arrivare le ore 6 e vediamo se parte il programma tv proprio lento eccolo è partito perfetto cucina io avrei preferito carpenteria vabbè continuiamo a leggere il libro di carpenteria ok mi è salito in cucina ok gli faccio finito libro perfetto libro completato quindi adesso vale la pena andare con la carpenteria a lavorare allora sigaretta pipì e usciamo di casa a lavorare allora che abilità mi ha dato a due punti in cucina beh buono ok inserisci caricatore perfetto ok ok raga c'ho la bottiglia d'acqua quasi vuota ok dobbiamo trovare i chiodi inutile che mi metta a fare cose se non abbiamo i chiodi non si fa niente e non lo so se li ho lasciati da qualche parte se li avevo trovati anche allora scatola di chiodi dimmi che ne abbiamo una niente non abbiamo chiodi né scatole di chiodi no niente da fare raga non possiamo barricare senza senza sufficienti chiodi non possiamo fare proprio niente mi pare che no perché ma se se c'erano li avevo già raccolti non ce n'è di sicuro allora o li ho lasciati da qualche altra parte e ne dubbo potrebbe essere no ma non c'è niente vabbè niente chiodi cambio di programma allora cambio di programma niente chiodi andiamo nella stazione della polizia almeno troviamo armi magari troviamo qualcos'altro di utile ma senza chiodi non posso barricare quindi quindi vabbè tanto vabbè a prescindere non è che voglio rimanere qui non mi convince troppo eh ma vediamo per ora dato che chiodi non ce n'è cambio di programma andiamo nella polizia sperando che non scatta l'allarme ammazzalo maronna mia proprio scarso mi sa che cambio di idea pensavo che l'ascia era molto buona per combattere ma io credo che cambio un po' l'idea andiamo di pistola va sennò qua perdiamo un'eternità per ammazzarli tutti sennò qui veramente non mi va di farmi ammazzare a questo punto io piglio e sparo meglio tanti proiettili c'è lì che li usa fa tanto voi non passate tanto non potete passare non potete attraversare non possono scavalcare una simile barricata allora devo stare attento perché io ci sono morto una volta dentro a questa stazione di polizia una volta ci sono morto qui dentro qui dentro una volta ci sono schiattato mo direte come hai fatto a morire qua dentro Nick eh ho aperto una porta c'erano quattro zombie dietro la porta ecco come sono morto quella volta ed era qui dietro quella porta questa forse che era la porta dove ero morto e poi ci stanno i bagni ma sinceramente difatti è meglio non rischiare ma che me ne frega a me perché le armi si trovano qui dietro inutile andare a rischiare la pelle in giro quando tanto le armi sono qua dietro ora ho uno di questi zombie alla chiave per aprire le porte oppure la buttiamo giù la porta però ho dimenticato allora vediamo fucile a pompa tutto sommato anche buono giacca e roba varia quest'altro puliziotto che c'ha la chiave eccola qui la chiave l'abbiamo trovata poi che ha trovato sigarette piglia 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 si ovviamente girando tutti questi tutte queste scrivanie si trovano tante belle vitamine vai le vitamine sono come il caffè esattamente come il caffè le vitamine e durano molto tempo le vitamine sono proprio il top da avere sono esattamente come il caffè però meno efficaci però ne prendi tante di vitamine e ti danno lo stesso effetto del caffè quindi le vitamine servono altre vitamine ottimo queste poi vabbè questo qui dell'acqua lo devo prendere pure dobbiamo avere questi per accumulare acqua perché poi ve l'ho detto prima o poi l'acqua mancherà in tutta la città quindi questi per avere scorte di acqua sono indispensabili allora non mi interessa esplorare tutto il posto perché ve l'ho detto è solo un rischio non mi interessa intanto la roba buona qui ok scatole munizioni ok armi qualche armetta questo gunthole kit per riparare le armi non abbiamo trovato armi però abbiamo trovato munizioni munizioni caricatori e anche però vabbè roba di armi che non abbiamo ma va bene prendiamo tutto franchi strozzatura ah in teoria la strozzatura cioè quell'oggetto lì è per come dire lo monti al fucile a pompa e i pallini invece di essere troppo sparpagliati sono un po' più centrati quindi in pratica col fucile a pompa dovremmo riuscire a sparare da lontano e becchiamo lo stesso lo zombie se ho capito bene è questo se ho capito bene la strozzatura no si chiamava proprio strozzatura mo dove cavolo è qui da qualche parte è finito boh ah si strozzatura piena boh credo oh è un no è un'arma ah no è un'arma un'arma con con questo oggetto ok questo è un fucile ah giusto è un fucile ok è un fucile con in più montato montata questa strozzatura però se sparo questo coso attiro mezzo milione di zombie quindi alla fine non lo utilizzerò di sicuro non qui non qui che abbiamo la base qui vicino allora quanto è ok facciamo una cosa prendiamo anche il boccione dell'acqua che li dobbiamo accumulare ah qui c'è un frigo che c'è dentro un bel niente allora prendi questo prendi la bottiglia che è mezza vuota e appeghiamo anche il dispenser basta andare qui raccogli pesa 10 kg ve lo mette nell'inventario sono un po' pesante ma fa niente vediamo se possiamo uscire di qua ci sono cose qui no ok raga non abbiamo rischiato troppo la pelle ed è meglio così abbiamo comunque trovato tutto quello che serviva a noi anche se effettivamente dovevo ancora girarmi i spogliatoi ma tanto alla fine il giubbottante proiettile già ce l'ho quindi quindi diciamo che ci dovrei tornare ci dovrei tornare ma non è adesso indispensabile magari per ora mi concentro su altre cose tipo ecco ma sempre zombie ci stanno allora io mi dovrei concentrare anche sulla macchina perché quella che abbiamo come avete visto si spegne la macchina che abbiamo si spegne ed è un gran bel problema allora questo lo posizioniamo per ora qui così quanto sarà che me lo devo portare ce l'ho a vista è buona mettiamoci l'acqua sopra anzi famo una cosa l'acqua la riempiamo che ci stanno 16 litri su 75 riempiamo la brocca anzi riempi tutto probabilmente ho lasciato gli spogliatoi così in caso in futuro se mi serve un giubbottante di proiettile nuovo lo vado a cercare lì per ora che non mi serve lasciamo perdere mi vorrei concentrare sul veicolo ma questo credo nel prossimo gameplay perché il tempo vola c'ho una bellissima mod che aggiunge un'ottima arma però mi servono due tubi e due e due pezzi di nastro adesivo e forse anche una sega ma quella ce l'abbiamo il nastro adesivo ce l'abbiamo anche il problema sono i due tubi che non ho e quelli poi vediamo più avanti spero di trovarli ok e niente quindi detto ciò mi sa che vado a concludere però prima segniamo che dalla polizia ci siamo passati allora ci metto una x in più ci aggiungo in piccolo non controllato armadietti vestiti ci metto pure una freccia per capire di che cosa sto a parlare ci mettiamo il simbolo della polizia oppure ce lo scriviamo direttamente polizia con una bella freccetta ok così so la situazione in caso so in futuro la situazione allora ragazzi niente purtroppo il tempo è volato via devo concludere ahimè quindi oggi che abbiamo fatto beh siamo andati dalla polizia siamo andati a fare scorta di libri di fatti una cosa che dovrei fare è leggere libri così li devo leggere tutti quelli di livello 1 un'altra cosa che dovrei fare ma porta via tempo è smantellare questi perché perché mi fanno salire in carpenteria è un modo alternativo per fare esperienza mi fanno fare un pizzico di esperienza capito e in più mi hanno anche dato un asse l'asse serve per barricare se io vado a prendere i chiodi vi faccio un attimo brevemente vedere che li ho messi qua mi pare un paio di chiodi prendo i chiodi prendo quell'asse ci vuole un asse e due chiodi quindi capite bene che non c'è barrico niente senza chiodi comunque praticamente noi che fanno andiamo qui con assi e chiodi barrica quando avrò messo tre assi gli zombie non mi vedono più cioè praticamente con tre assi barrichiamo in modo sufficiente per non farci vedere dagli zombie che poi anche i teli mi pare che non me li so portati dietro vero o ce li ho no se avevo quelli li mettevo così gli zombie non mi vedevano ma non ce li ho a portata di mano e allora mi concentro eh voglia qui a smontare per far cappenteria raga ci vuole sempre quella dannata sega ma tanto ce l'ho nella macchina ce l'abbiamo sotto nel furgone la sega quindi non è un problema raga devo concludere il tempo è volato spero vi sia piaciuto il gameplay raga ci si becca presto ciao alla prossima